Benvenuto Nicolas Burdisso, nuovo direttore tecnico della Fiorentina. Come sono andati questi primi giorni qui a Firenze e qual è l'impatto con i Viola? L'impatto è stato bellissimo, soprattutto perché è una città, è un popolo che io conoscevo, ovviamente che venivo qui parecchie volte a giocare, ma quando mi hanno parlato di questa possibilità, di questa opportunità, per me è stata più che altro una sfida, una sfida bellissima, in un posto che si sente il calcio in una maniera diversa e anche per me, per la mia crescita, quindi sono stati 10-15 giorni intensi e belli. Cerchiamo di capire un po' di più nello specifico il tuo lavoro, il tuo rapporto con Daniele Pradè, sono già i primi giorni ufficiali di apertura del mercato, quanto movimento c'è, quanto è fitta la tua agenda? Sono il responsabile tecnico dentro la società, devo collegare i bisogni della prima squadra assolutamente, che è quello che oggi ci siamo più che altro concentrando, ma anche il settore giovanile, ma anche l'area scouting. A livello tecnico devo essere io, quello di proporre i nomi, tanto in prima squadra come in settore giovanile, di vedere, di continuare a pianificare o a vedere il piano di successione dei calciatori che possono essere ottimi in settore giovanile, che possono arrivare in prima squadra e poi ovviamente organizzare il discorso di andare a vedere talenti o cercare talenti in tutto il mondo, quindi il discorso dell'area tecnica è molto legato a quello che mi piace fare, ovviamente dentro di una società bellissima come Fiorentina. A proposito di nuovi nomi, è arrivato già un nome per la Fiorentina, Nico González, proprio dall'Argentina. Com'è andata questa operazione? Che tipo di giocatore è? Beh, diciamo, l'operazione più importante della storia della Fiorentina parla da sola, no? Ovviamente che mi hanno chiesto il mio parriere prima che succedesse tutto, ho dato il mio parriere tecnico, ma soprattutto anche a livello generale, culturale, di cosa potrebbe dare un calciatore come Nico da González a questo momento a Firenze, alla Fiorentina. Io sono figlio di anni e anni a guardare il grandissimo Gavrino Marbatistuta con questa maglia, quindi ci auguriamo tutti di portare un calciatore che possa continuare con quella storia, con quel mito. Esatto, il collegamento Argentina-Firenze continua? Sì, sì, assolutamente, ma penso che sia un collegamento Argentina-Italia pure. Il discorso qui, la cosa più importante per tutti noi è quella di costruire una squadra che rispette quello che è sempre stata la Fiorentina, che è sempre stato il cuore biola per poi essere competitivi e vincere domenica, che è quella la cosa che vogliamo tutti. Ecco, hai raggiunto tanti obiettivi da calciatore, da direttore tecnico della Fiorentina, hai già un sogno, una prospettiva? Quello che ti ho detto prima, assolutamente. Io ho iniziato questo percorso da dirigente da tre anni fa, ho fatto un anno di gavetta molto intenso e importante in Sud America, nella mia casa, come nel Boca Juniors, ma la sfida questa diventa molto, ma molto importante sul fatto che c'è tanto da fare, che ho tantissime idee, tantissima voglia, ma soprattutto quella sfida più importante per me è quella di gestire, di essere qui, di dare ovviamente la mia consulenza, ma soprattutto di essere una risorsa per il club, assolutamente. In campo ci ricordiamo un giocatore con molta garra, come si dice, in Sud America, cosa porti di questo atteggiamento dietro la scrivania? Guarda, mi piace parlare poco da me, ti dico la verità, mi piace più che altro lavorare, ho sempre fatto così, sono sempre stato, come si dice, un leader dentro del spogliatoio, ma anche un ragazzo spogliatoio, quindi anche questo metto qui dentro, il discorso di essere una risorsa per il mister, ma anche per i calciatori, ma soprattutto per la Fiorentina, noi dobbiamo assolutamente avere un progetto, una pianificazione che va legata a come vogliamo giocare, a cosa vogliamo imporre in campo, e da lì partono ovviamente poi tantissime idee che dobbiamo e possiamo sviluppare. Bene, allora, buon lavoro Nico. Grazie, ovviamente un saluto a tutta la città di Firenze, un orgoglio per me e una grandissima possibilità, grazie.